allora ragazzi abbiamo fatto la pulizia delle pareti adesso si prepariamo per fare una pulita a terra in modo che il materiale non ci dia fastidio la prossima operazione da fare sono operazioni importanti perché comunque se non si può iniziare a lavorare con questa polvere a terra che la colla si appiccica vicino alla polvere e diventa un caos la pulizia è la prima cosa per fare qualsiasi tipo di lavoro continuate così fino alla pulizia totale tutto il pavimento del bagno è importante che il pavimento che si è fucato a terra a fare un'altra e e e e e e e e e